Passato e presente, così come eleganza e sportività convivono sotto le insegne DS qui a Ginevra. Ci racconta quali sono le novità dello stand Elena Fumagalli, che è Marketing and Communication Manager della casa. Ginevra 2016, il giovane marchio DS è presente con la sua gamma completamente rinnovata. Un anno fa il debutto con il nuovo logo, la nuova firma e l'ammiraglia, nuova DS5. Ora la gamma è completa e composta da DS5, nuova DS4 nella versione berlina e crossback e l'ultima a essere stata rivelata nuova DS3 nelle sue versioni berlina, cabrio e DS3 Performance. Qui a Ginevra DS è presente con due grandissime novità in anteprima mondiale. Una DS3 BRM Chronograph sviluppata sulla base della DS3 Performance e un oggetto tecnologico ma raffinato ed elegante che è DSi Tense. Si tratta di una vettura unica, scolpita, elegante, dalle grandi prestazioni perché ha un motore 100% elettrico, una monoscocca in carbonio che parla di futuro di DS. Grazie a tutti.